Presidente Di Palma, lei ha presenziato alla cerimonia di intitolazione a Don Peppino Diana di una struttura per minori presso il Tribunale Minorile, c'era anche il padre di Don Peppino. Un'iniziativa molto particolare perché intitolare a Don Peppino Diana quella struttura significa proporre ai ragazzi che sono lì perché hanno commesso reati, perché sono affiliati alla criminalità organizzata un modello alternativo a quello che invece loro sono abituati nella quotidianità. Quindi è molto bello, ha un'immagine di forza, di potere, quella del capoclan, di ricchezza, si contrappone un'immagine di servizio, di solidarietà, di un modello alternativo. Per cui sono andato stamattina proprio perché i principi della legalità, i principi della giustizia, ma soprattutto i principi della solidarietà e della integrazione di questi ragazzi sono principi che hanno ispirato anche l'azione della provincia in questi anni.